bentornati sul canale di progettazione nautica andiamo avanti con i fondamentali della progettazione nautica e questa volta parliamo del center of buoyancy come sempre vi invito a mettere un mi piace se questo video l'avete trovato utile e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto più del 60 per cento delle persone che guardano i video non sono ancora iscritti al canale quindi vi esorto a iscrivervi per non perdervi altri contenuti allora l'ultima volta abbiamo usato il comando idrostatica per analizzare le caratteristiche idrostatiche appunto del di questa carena e sostanzialmente abbiamo visto che il dislocamento quindi i metri cubi dislocanti di questo di questa carena sono poco più di 4 4,3 e inoltre è venuto fuori che c'è un centro di carena a queste coordinate che cos'è il centro di carena allora è quello dove che noi chiamiamo punto dove si può concentrare la spinta di archimede il principio di archimede dice che un solido immerso in un fluido riceve una spinta dal basso verso l'alto pari al peso del liquido spostato quindi al peso del liquido o del fluido dislocato dislocare significa cambiare di luogo spostare quindi in questo caso noi immergiamo questa carena in acqua e quindi tutta questa parte qui immersa è il dislocamento perché in tutta questa area tra il piano di galleggiamento e la superficie della barca prima c'era un fluido in particolare c'era l'acqua noi l'abbiamo spostata quest'acqua perché adesso c'è la carena la parte di carena immersa e quindi riceveremo una spinta dal basso verso l'alto pari a 4,3 32 vabbè quello che è metri cubi se fossimo in acqua distillata sarebbero 4,32 tonnellate per la progettazione nautica si usa un siccome l'acqua del mare salata si usa un numero leggermente diverso che è 1025 un pochettino di più ma insomma il principio non cambia possiamo dire circa 4,4 tonnellate ma dov'è questo dove localizzata questa questa spinta è appunto in queste coordinate che abbiamo ricavato con il comando idrostatica ricordiamoci che chiaramente anche il il calcolo della posizione del centro del center of buoyancy in inglese si chiama così e vi esorterei a usare questa definizione perché in italiano si fanno un po troppe li chiamiamo in modi molto diversi e quindi si fa confusione anche questo calcolo dicevo si fa con gli integrali però per fortuna ci sono i computer e non c'è più bisogno di farlo di farlo a mano allora il centro dicevamo il center of buoyancy è qua center of buoyancy questo software lo chiama centro di carena in italiano si dovrebbe chiamare centro di spinta idrostatica poi c'è alcuni che lo chiamano punto dove si concentra la spinta d'archimede insomma si fa un po troppa confusione chiamiamolo center of buoyancy e finiamola lì perché altrimenti poi col centro di galleggiamento che è il centro di galleggiamento facciamo dei pastrocchi insomma allora abbiamo visto che il center of flotation nella volta scorsa è il centroide del piano di galleggiamento e quindi ovviamente sta sul piano di galleggiamento vedete questa linea questa qui è la dvl e sta qua il center of buoyancy invece sta sotto il piano di galleggiamento e sta chiaramente per carene dritte e simmetriche sta sull'asse di simmetria il centro barca e poi sta a una certa posizione rispetto allo zero ok quindi questo è il center of buoyancy perché lo è importante cosa ce ne frega è molto importante per un paio di ragioni almeno la prima ragione è che dobbiamo capire che tutto quello che tutti i pesi che noi posizioniamo a prua di questo center of buoyancy hanno l'effetto di approvare la barca se io avessi soltanto pesi in questa parte qui chiaramente approverei la barca se avessi la maggior parte dei pesi a poppa appopperai la barca in pratica la sommatoria cioè il baricentro o il centro dei pesi diciamo di tutta l'imbarcazione di tutti i pesi che sono accolti nell'imbarcazione devono avere come sommatoria il center of buoyancy perché la barca galleggi su secondo questa dvl se la sommatoria di tutti i pesi quindi chiamiamolo il baricentro in inglese center of gravity è meglio però diciamo se il baricentro sta a prua del center of buoyancy chiaramente la barca si apprua cioè va giù di prua se sta a poppa si appoppa e quindi bisogna quando si progetta l'imbarcazione bisogna calcolare tutti i pesi lo vedremo nelle prossime lezioni calcolare dov'è la posizione del baricentro e fare in modo che sia coincidente con la posizione del center of buoyancy ma questo center of buoyancy è importante anche per un altro almeno un paio di altri punti adesso ne vediamo uno allora abbiamo detto che l'altra volta abbiamo detto che abbiamo trovato il momento di inerzia del piano di galleggiamento che è 6,013 metri alla quarta non vi spaventi questo metro alla quarta perché abbiamo detto che il momento di inerzia è un'area quindi una lunghezza al quadrato per una distanza al quadrato e quindi chiaramente alla fine abbiamo fuori una distanza alla quarta se noi dividiamo il momento di inerzia diviso il volume il volume di dislocamento otteniamo il raggio metacentrico quindi il raggio metacentrico è uguale al momento di inerzia del piano di galleggiamento diviso il volume dislocato quindi 6,013 metri alla quarta diviso 4,328 che è il dislocamento questo qua metri cubi metri alla quarta diviso metri cubi fanno i metri lineari e il risultato è 1,389 che cos'è questo numero? questo numero è il raggio metacentrico la distanza fra il center of buoyancy e il metacentro il metacentro è un punto fondamentale per la stabilità di forma avete visto che qui non entra non abbiamo parlato non abbiamo calcolato ancora il baricentro e quindi non parliamo di stabilità di peso in questo momento parliamo di stabilità di forma il metacentro è uno dei punti fondamentali per calcolare la stabilità di forma quello che abbiamo calcolato è il raggio metacentrico la distanza fra center of buoyancy e metacentro appunto 1,389 allora intuitivamente si può capire subito che se io avessi a parità di condizioni mettiamo che il dislocamento rimane lo stesso però io aumento il momento di inerzia perché la barca invece torno in piano scusate invece di avere questo piano di galleggiamento ha un piano di galleggio un po' più panciuto e qui finisce prima chiaramente il momento di inerzia aumenta e infatti la barca si allarga diciamo e quindi è più stabile ha più effetto zattera diciamo il dislocamento rimane lo stesso e quindi il momento di inerzia il raggio metacentrico aumenterebbe quindi se vogliamo fare una barca con più stabilità di forma basta aumentare il baglio diciamo chiaramente poi dal punto di vista idrodinamico è una penalizzazione perché una barca più larga ovviamente è più lenta però se questo momento di inerzia aumentasse e il dislocamento rimanesse uguale chiaramente qui avremmo un raggio metacentrico più alto al contrario se lasciamo questo piano di galleggiamento ma la barca fosse più panciuta più profonda avesse un dislocamento molto maggiore a parità di piano di galleggiamento noi avremmo un raggio metacentrico più basso e quindi avremmo meno stabilità di forma sembra incredibile ma è così se questa barca invece di pesare 4,3 metri cubi di slocare quindi avesse un volume di dislocamento doppio qui chiaramente il raggio metacentrico sarebbe la metà eppure la forma della barca è la stessa e questo se ci ragioniamo un attimo è abbastanza facile da capire voi immaginate una zattera che è immersa soltanto di 10 cm la ritenete abbastanza stabile se invece la stessa zattera è alta 1 metro e 90 cm sono immersi vuol dire che gran parte della sua stabilità è già compromessa voglio dire basta poco per renderla instabile però queste sensazioni che noi abbiamo quando vediamo un corpo galleggiante in questo così avete gli elementi per calcolarli quindi è veramente molto in realtà è veramente molto semplice calcolare questi elementi e poi vedremo come metterli insieme anche con la stabilità di peso abbiamo detto ricapitolando questo è il piano di galleggiamento il centroide del piano di galleggiamento è il center of flotation la barca si muove attorno avendo come perno il center of flotation poi abbiamo detto che attraverso il comando idrostatica in questo software possiamo sapere qual è il dislocamento 4,3 metri cubi e possiamo sapere dove è il center of buoyancy cioè il punto questo qua dove è concentrata la la spinta di archimede chiamiamola quindi dividendo il momento di inerzia del piano di galleggiamento rispetto al centro barca per il volume dislocato diviso il volume abbiamo abbiamo questa altezza che si chiama raggio metacentrico distanza fra center of buoyancy e metacentro attenzione non è l'altezza metacentrica quella la vediamo prossimamente questo si chiama raggio metacentrico è una cosa profondamente diversa quindi con questi pochi passaggi siamo arrivati ad trovare il center of rotation il center of buoyancy e il metacentro quindi abbiamo gran parte degli elementi che entrano a far parte della stabilità di un'imbarcazione in particolare della stabilità di forma va bene per questo video è tutto nei prossimi video parleremo appunto del center of gravity che in italiano noi chiamiamo baricentro e di come entra in questo in questo calcolo della stabilità dell'imbarcazione e perché è importante alla prossima e ancora una volta vi invito a iscrivervi al canale a presto